Le buone pratiche da adottare per preservarsi dal rischio di truffe ed evitare di cadere nelle mani dei malviventi è stato il tema dell'incontro del carabiniere tra la gente. L'arma ha infatti partecipato con i suoi massimi esponenti all'incontro organizzato alla cassetta che non c'è di pagliare di sassa. Tra la gente, per la gente. I carabinieri con questo gesto si confermano di incarnare lo spirito dello Stato, della sicurezza e della solidarietà cittadina. Ancora viva nel terzo millennio grazie a queste iniziative. Io ringrazio tutta l'associazione che ha voluto organizzare questo incontro che per noi è un'opportunità per dare degli utili consigli alla cittadinanza di cui ci sentiamo assolutamente una parte integrante, una parte importante ed integrante della stessa. Ciò al fine di poter consentire delle valide difese a chi effettivamente ha una posizione di debolezza rispetto ad altri. Abbiamo appunto parlato di diverse figure di reato, ma soprattutto abbiamo posto l'accento su quello che è appunto il reato che ultimamente sta dando più fastidio a livello nazionale, che è quello appunto delle truffe agli anziani. La nostra vicinanza, la nostra prossimità alla cittadinanza è finalizzata ad assicurare sicurezza, una sicurezza partecipata di cui appunto il cittadino fa parte con le sue segnalazioni. Grazie.